Salve a tutti, per chi non mi conosce sono allo stallone italiano, entrerò nelle vostre case, nei vostri pensieri, nei vostri sogni, nelle vostre menti, nei vostri sogni più erotici. E ricordate, piano piano mi riconoscerete e se fate sogni abbastanza piccanti, ricordatevi, ci sarò io a farvi compagnia. Chi? Lo stallone italiano, solo per voi donne, donne di tutto il mondo, di tutta l'età, di tutte le nazioni, ricordatevi, donne, è arrivato lo stallone italiano, solo per voi. Alla prossima, e mi raccomando, siete molto calde, non fate le ragazze timide. Il vostro stallone italiano, sta arrivando, per i vostri pensieri, più sex. Un saluto, a voi donne, mi raccomando, lo stallone italiano, sempre con voi. Alla prossima.